Cosa ne pensa del nostro progetto Un Fiocco in Azienda? Ritengo che sia un progetto virtuoso di grande apertura mentale e culturale che promuove la maternità e la genitorialità in azienda con strumenti molto concreti dando vantaggi sia ai lavoratori di ogni tipo di inquadramento che all'azienda aumentandone la produttività Inoltre due vantaggi anche rispetto alla società molto importanti ovvero l'incremento della natalità nel nostro paese e evitare che si abbassi il tasso di occupazione femminile infatti un terzo delle donne dopo il parto rinuncia al proprio lavoro Cosa pensa di fare, cosa è in progetto di fare su questo tema il Consiglio per le Pari Opportunità della Regione Lombardia? Il Consiglio per le Pari Opportunità di Regione Lombardia è un organo consultivo del Consiglio regionale e ha tra le sue missioni quella di promuovere una cultura di parità quindi progetti virtuosi come questo del Fiocco in Azienda devono essere sostenuti e valorizzati dalle istituzioni diamo quindi la nostra disponibilità allo scopo proprio di promuovere iniziative come questa Grazie a tutti! Grazie a tutti